Saranno i giovanissimi Nicolo Cataldo e Gennaro Castaldo a esibirsi sul prato dello Juventus Stadium lunedì 27 maggio prima del calcio d'inizio della partita del cuore, l'evento benefico e di solidarietà giunto alla sua 28esima edizione e che vedrà in campo la nazionale italiana cantanti contro i campioni per la ricerca. Nicolo e Gennaro sono i vincitori della terza edizione del concorso Un Cuore Rep promosso dal Consiglio regionale del Piemonte attraverso gli stati generali dello sport e del benessere e la consulta giovani e rivolto agli studenti delle classe medie e superiori. I due giovani artisti sono stati premiati al 32esimo Salone del Libro di Torino nel corso della presentazione della partita del cuore da Daniele Incicco della RUA, Oscar Gianmarinaro dell'Istatuto e dal rapper Moreno in rappresentanza della nazionale italiana cantanti. Quest'anno sono stati un centinaio i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al bando presentando una loro canzone inedita per testo e per musica accompagnata da un video amatoriale, un esercizio di stile personalità e gusto con un solo obbligo. Il testo della canzone doveva contenere alcune parole chiave come solidarietà, sport, benessere, donare e partita del cuore. I video sono stati valutati da una giuria presieduta da un funzionario regionale e composta da cantanti della partita del cuore e da rappresentanti del mondo della ricerca scientifica. Abbiamo visto, visionato e ascoltato parecchia musica, è stata una selezione abbastanza difficile. I ragazzi hanno più proprio centrato l'obiettivo della partita del cuore nelle loro parole e anche nella reazione del video e quindi hanno meritato questo premio ma c'erano anche tanti altri studenti che hanno fatto delle cose ben fatte. È una bella iniziativa questa del cuore rap che andrà avanti anche gli anni prossimi e si sta sempre più ingrandendo. L'incasso della partita del cuore sarà devoluto alla fondazione Teleton e alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. Un evento come la partita del cuore è importantissimo perché ci permette di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul cancro. In istituto a Candiolo operano 600 persone fra medici, tecnici e ricercatori infermieri e queste risorse servono ad alimentare la speranza. In questi anni tante cose sono state fatte, tante scoperte sono state fatte proprio in istituto a Candiolo e eventi come questo ci permettono di sostenere la ricerca e di andare avanti nella nostra battaglia contro la malattia.